Oggi c'era Mr. Mammola con noi qui a fronte, insomma, come andiamo questa parte, i mist, insomma, secondo noi è una partita dove, insomma, le squadre sono rivalse, poi alla fine è uscita fuori l'esperienza della partita, insomma, ecco, che in questione la gente riesce, insomma, forse sempre a esprimere meglio di sé quando magari c'è troppo difficoltà. Lei ritiene che la nostra parte sia giusta oppure, insomma, lei come ha visto questo incontro, lo giudica, insomma, questa partita, ecco. Ma io vi sono stato votato molto a corto, una squadra ben messa in campo che, fin quando ha retto dal punto di vista fisico, ha disputato sicuramente una grande partita, un'ottima partita. Poi, beh, l'esperienza, il fattore casalingo, la fortitudine la conosciamo, gli ultimi minuti gli ha fatti valere, anche perché probabilmente ha capito l'importanza della partita. E su palle inattive due mischie si è portato a casa in pieno bottino, anche se credo che forse il pareggio sarebbe stato ecco, più giusto, sicuramente. Per quello che si è visto sicuramente, anche il Sabutano, tra l'altro, ha giocato quasi l'intera seconda fazione, ha giocato in dieci uomini, quindi ha fatto sicuramente una buona partita. Senti, ultima cosa, a me ci sembra comunque, anche se tu non mi parli degli arbitri, però ci sembra un arbitragio un po' troppo protagonista, insomma, fermava il gioco ogni momento, insomma, c'è bisogno di poi manca anche dubbi, insomma. Ritieni, insomma, che questo arbitragio sia stato proprio, tecnicamente, non parliamo della persona o di quello così, ecco, perché magari qualcuno può far intendere. Sì, certo, certo. Come ti sembra proprio? Sì, poi sono d'accordo con la tua analisi, mi piacerebbe rivedere il secondo gol della fortitudo, perché dal mio punto di vista c'era un fuorigioco piuttosto evidente, perché mi sembra che ha segnato qua sulle linee di porta, su un'uscita del portiere un pochino approssimativa, ha segnato, dal mio punto di vista sembrava fuorigioco, almeno negli spalti, però non abbiamo l'occasione del replay, quindi ogni commento potrebbe risultare un po' difficile da dare. Visto, solo un'ultima cosa vorrei chiedere, questa è decisiva di rarso, ecco, la Suterina, insomma, ha vinto anche domenica 7-0 con il bel sito, insomma, un allenamento quasi, quasi, ecco. Come vede questa volta, per esempio, chiedi sempre che la fortitudo sia una squadra ostica da affrontare, che ha visto oggi? Sì, sì, una squadra ostica, una squadra fisica, una squadra ostica, una squadra determinata, coriacea, che fa dell'agonismo probabilmente la caratteristica migliore. E comunque, fin quando siamo davanti, possiamo sbagliare soltanto noi, non vi dobbiamo preoccuparci. Abbiamo 7 punti con 6 partite da gestire, anche se domani andiamo a Serra Stretta, un campo non facilissimo, dove la fortitudo ha perso, ha perso anche il Belmonte, conosciamo gli avversari, sarà una partita non facile, come tutte le partite di calcio. Anche c'è il Chet, insomma, un giocatore, insomma, della... Paletta, paletta, paletta. Ah, c'è la paraccia della sua paletta, che è un grandissimo giocatore della fortità di sette, che può dare anche problemi. È un lusso per la categoria, sì. Ah bene, e Stefano, non ti ringraziamo, siamo molto gentili con noi, insomma, per te forze. Prego, 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 arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci.